Bravissimi Bravissimi Bravi ragazzi Andiamo a Buenos Aires per i mondiali Facciamo un applauso e un incoraggiamento per Andrea e Chiara che andranno a sfidare i migliori taglieri del mondo e daranno un filo da torcere Bravi Allora, Andrea e Chiara avevano detto se non è un problema per voi faremo anche una milonga Abbiamo un problema noi? Allora, vi chiediamo una milonghina Ok Allora, vi chiediamo una milonga 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 Grazie. 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 Ti chiedo una piccola introduzione per quanto riguarda la vostra performance. So che avete vinto i campionati italiani con il Tango Show, il Tango Scenario. Volete dire qualcosa? Intanto grazie a tutti davvero, grazie a me Cristina per l'invito a stare dietro, mi sa. Grazie a me Cristina per l'invito, è un gran piacere stare qui. E niente, vi volevamo ringraziare perché siete stati davvero molto caldi con gli applausi e questo è il nostro unico ritorno che ci fa sempre un gran piacere. Come dire qualcosa è chiaro, in genere parlo sempre io. Niente, adesso nell'Italia ci ha riconosciuto appunto con il primo classificato la possibilità di andare in semifinale direttamente al Mondiale dei Baile di Buenos Aires, quindi ad agosto partiremo e proveremo a partire già dalla semifinale, quindi mi sa che succederà che ovviamente c'è un bel livello, quindi proveremo a portare l'Italia un po' avanti e grazie a tutti voi. Certo, grazie a tutti. Grazie, grazie ancora, in buon gruppo, si dice così eh. Grazie, grazie ancora. Un grande applauso ancora.